Ovviamente sono super contento che tantissima gente mi segue, mi guarda, cerca di capire quello che faccio. Cerco di insegnare a tutti i ragazzini di fare sport, di fare atletica, calcio, lo sport che a cui piace. E quindi in realtà ieri sera non mi aspettavo tutta questa gente, tutti i ragazzini. Io sono arrivato per Ronaldinho, ho detto sicuramente metto a seduto, nessuno mi riconoscerà. Invece è stato il contrario, però è molto bello e ho passato una bella serata ieri, una bella mattinata oggi dove mi sono raccontato ai miei tifosi, ai miei concittadini. Bella mattinata. Bisogna cercare di fare i conti, quello che ho fatto in pista, dove posso arrivare, potevo arrivare. Poi si fanno altri conti sulla strada, dove posso arrivare e quindi penso che bisogna essere pronti a cambiare le cose, a cambiare distanza, a cambiare disciplina per cercare di arrivare più avanti possibile nelle gare dove ci sono gli europei, olimpiadi e mondiali. E quindi penso che è arrivata, sono sicuro che è arrivato il momento di cambiare, di approcciarmi un po' più alla maratona e cercare di raccogliere delle soddisfazioni lì. Non tutto è scontato, anche se pensi di esserti allenato al meglio. Non è detto che arriva il risultato, ci sono tante delusioni anche quando pensi che dovrai svoltare, ma cadi e penso che queste cose ti insegnano molto a non prendere sotto gamba tantissimi eventi, tantissimi allenamenti. Più esperienze fai che siano negative, positive e migliori, riesci a capire come andrà quella dopo. Quelle negative fino ad oggi sono quelle che mi sono servite di più. Chiudo gli occhi, penso prima di tutto agli europei che saranno a Roma in casa e poi a Parigi. Cercherò di arrivare il più avanti possibile. Ogni tanto quando faccio gli allenamenti lunghi ci penso, fra un anno sarò a Parigi a giocarmi qualche bella posizione davanti e poi ritorno in me. Sono tante emozioni che si provano e solo vivendole quel giorno si potrà capire.